Ti piacerebbe acquisire competenze utili a condividere efficacemente attraverso il video le tue esperienze didattiche? Partecipa al workshop Il video per la condivisione delle esperienze educative. Impariamo a documentare nella Biblioteca dell'Innovazione, organizzato da indire a Fiera Didacta Italia. Acquisirai metodologie, strumenti e format pensati da indire per la Biblioteca dell'Innovazione, con l'obiettivo di rendere la documentazione video una pratica quotidiana di analisi e comunicazione. Attraverso il video possiamo tenere traccia delle attività svolte, riflettere su di esse per migliorarle e comunicarle ad altri docenti favorendo la diffusione di buone pratiche. Il workshop è pensato per guidare i docenti attraverso tutte le fasi di un processo di documentazione video. Dal cosa e quando documentare, al come effettuare riprese efficaci con i propri dispositivi mobili, fino all'integrazione di fotografie, video e testi con applicazioni di montaggio gratuite e facili da usare. impareremo ad essere content creators a scuola, secondo il modello culturale della Biblioteca dell'Innovazione Indire, il luogo dove dirigenti e docenti possono trovare idee e risorse da usare per la didattica, condividere la propria esperienza, formarsi su come documentare a scuola e su come documentare la scuola, avere supporto tecnico per la documentazione, trovare spazio per le proprie risorse. Ti aspettiamo il 17 ottobre alle ore 11.15 alla fiera Didacta Italia Edizione Puglia, nuova fiera del Levante, Bari.